Buongiorno a tutti, volevo esprimere una mia considerazione sulla vicenda di Saviano nei confronti del Nord Italia e nella fattispecie della Lega che pare, secondo lui, avere intrecci con l'Andranghida. Il ragionamento di Saviano poteva essere anche intelligente, ma per certi aspetti è anche ovvio, perché da quanto è mondo in mondo, dove c'è grana c'è anche infiltrazione mafiosa, quindi non ha fatto la scoperta dell'America, però allo stesso tempo l'ho visto troppo fantasioso e che portava verso la Lega tutta la responsabilità. Io ripeto, sono meridionale, quindi non voto per Lega, però quando ci vuole, ci vuole, nel senso che bene o male bisogna essere anche chiari nel discutere di alcuni argomenti che sono molto importanti. E' facile che nel Nord Italia ci siano infiltrazioni mafiose, di Gamorra, di Intranghida, penso anche infiltrazione lusse, di qualsiasi cosa, quindi ci può essere qualsiasi tipo di infiltrazione. Addirittura pare che ci sia nella zona di Varenza la base di H&E in Italia, quindi potrei anche dire di più. Però ridurre alla Lega Lombarda che mi pare che una volta a settimana porta in carcere un pezzo grosso, che da quando io vedo la televisione, credete, non ho mai visto una così tenace battaglia contro la delinquenza. Mi pare che questo Maroni sia all'altezza di questo Ministero e che sta facendo veramente delle cose importanti tra Nord e Sud e quando riguarda la lotta contro la delinquenza di associazioni mafiose. poi che ci possono essere in Lombardia degli organici che mettono le mani in alcune parti, è facile, ma che si possono dare alla Lega queste responsabilità oggettive mi sembra esagerato, per lo meno fantasioso. Poi di base ci può essere il ragionamento, ma chiunque vedrebbe a vista, dico bene o male, in un posto dove ci sono tanti soldi perché la mafia dovrebbe stare all'andrangheta dove c'è povertà. È quasi una cosa logica, no? Però combattere si fa con i fatti e i fatti Maroni li sta facendo vedere. Poi se voi mi dite perché ridono queste persone che entrano in carcere, boh, cosa ci avranno da ridere, non lo so. Ma ridono tanto perché vengono cacciate subito dopo, vedremo se sarà così, non lo so. Ci verranno cacciate subito queste persone. Trovo veramente quella di Saviano in deposizione secondo me fantasiosa, lui scrive libri, è facile che ci sia un po' di romanzo in quello che dice. Però la faccia tosta l'ha avuta, penso che sia giusto fare un confronto con Maroni e io sono convinto che anche servono i confronti. In quanto vedo tanti confronti in televisione e finire poi in nulla di fatto. Più o meno uno dice una cosa, un altro ne dice un'altra. Alla fine si innescono meccanismi che si creano una confusione, un po' come la vetrana, non si capisce niente. E questo per quanto riguarda l'aspetto dell'andrangheta che riguarda appunto la Lombardia. Poi c'è altre vicende di queste settimane. Fini non si capisce cosa vuole fare, un po' vuole entrare, un po' vuole uscire, un po' ci ripenso, un po' di pietro dice si viene qua di donna martellata, non si capisce niente più. Quindi dobbiamo aspettare Fini cosa vuole fare da grande, non si capisce esattamente quali sono i motivi per cui esce, entra, sta in stallo, sta in spiembaggio vicino. E quando riguarda la situazione invece della spazzatura di Napoli, ebbene la spazzatura di Napoli è in più occasioni che è stata rimossa, è in più occasioni che stanno stanziando soldi. Comunque è una ferita che sanguina, che non si può più immarginare, mi sembra un concetto che sia più di responsabilità secondo me dell'amministrazione locale. Non è che lo Stato si deve preoccupare di tutte quelle che sono le sottigliezze del posto. Lo Stato può rimuovere le cause principali, può dare delle direttive, ma se non vengono rispettate poi ritorna il problema. Tanto si parla contro questo governo, poco si dice, la Ieropolino cosa sta facendo per trovare soluzioni per la spazzatura di Napoli, perché a volte le soluzioni penso che siano locali. Bisogna mettersi in testa che i sindaci assessori regionali e provinciali devono fare politica locale. Pensate che ci sono 45 miliardi di Euro fermi nella Comunità Europea perché nessuno li sa ritirare, nessuno ha progetti, nessuno ha idee. Quindi a volte c'è pigrizia e pensano che lo Stato deve occuparsi di tutte quelle che sono le sfumature locali. Anche sul terremoto dell'Aquila, ma mi sembra esagerato, c'è stato un terremoto della Madonna. Penso che questi terremoti buttano giù tante case, penso che la risposta ai piedi sia anche addirittura dei cittadini perché non si costruiscono case con sabbia di mare, non si costruiscono case troppo alte con cementi scadenti. A volte sono anche responsabilità anche di geometri, di assessori comunali. Poi arriva un terremoto molto vasto e la colpa è sempre del governo. Loro hanno fatto un piano di organizzazione veloce, atto a mettere in sicurezza tutti i cittadini. Hanno costruito delle case attenute sicuramente di terremoti, forse manca l'amore che avevano prima in quel posto, perdono il contatto con la storia queste persone, però erano persone che sono state destinate ad avere questo destino e come faremo? Atroce di perdere la casa e perdere tutto. Però non si può pretendere che il centro storico possa essere risolto dallo Stato. Lo Stato non può mantenere neanche le opere di Pompei, non può mantenere tutto il patrimonio storico che riguarda la nostra storia a livelli alti, figuriamoci se si può interessare del centro storico dell'Aquila. I centri storici devono essere nelle competenze locali, perché lo Stato può costruire le case a moduli che vengono praticamente assemblate in un sistema veloce per creare subito la sicurezza del posto. Per quanto riguarda poi l'abbellimento e il recupero dei centri storici, toccano proprio alle rappresentanze locali di occuparsene in maniera praticamente, come si dice, laboriosa, con criterio e trovare le soluzioni. Perché non si può immaginare che lo Stato vi può dare a voi il centro storico a livello della protezione civica. Dovete essere voi, ingegneri, geometri, persone esperte della materia, storici, trovare l'annesso e il connesso del centro storico dell'Aquila. Poi i fondi dove sono andati a finire, esponeteli voi. Dove sono questi fondi che sono stati stanziati? Chi ne sa qualcosa, parlasse. Perché non è che adesso lo Stato stanzia, poi questi soldi dovranno finire, voi dovete saperlo. La stanziate dove sono questi soldi? Perché non venne occupate? Forse dello Stato si vuole troppo, a mio parere, poco fanno le inestazioni locale. Quanto riguarda il cinema, questi signori vogliono anche loro stanziamenti per i cinema, ci sono problemi più importanti che fare le commediori. Vedo che a volte alcuni film prendono tanto successo, guadagnano milioni di Euro a settimana, beh, ve li mettete da parte e ci fate i filmetti nelle prossime occasioni. Se un film ha una nota sociale, se un film ha delle caratteristiche che servono nella cultura, va bene, si può finanziare nella sua specialità, nella sua specifiche. Però se si fanno commedie, commediole, piccole cose, a mio parere, ve le fate da sopra. Dico, non è che state portando queste cose in giro, sinceramente. Da tanti anni si vedono filmetti, anche addirittura connesse, connesse, con personaggi dei grandi fratelli, insomma, abbiamo perso il contatto con il cinema, secondo me, perché trovo questi film ripetitivi e spesso anche noioso. Dovete anche valutare che avete mangiato pure abbastanza. Dico, nega adesso chi raccoglie le mandarine a 30 Euro al giorno è un cretino e chi magari fa i film sia una persona più intelligente. Detto questo, cosa c'è da dire più? Penso che la situazione sia abbastanza difficile, però piangersi addosso non serve a niente. Faccio un esempio e poi finisco per il momento. Vedete il Veneto, ha subito un'alluvione importante, però non stanno là tutti i giorni a lamentarsi. Sono là perché c'è nella cultura del lavoro, della, come si dice, del sacrificio e si sono messi praticamente a trovare le soluzioni. Non stanno come i meridionali sempre a piangere che qualcuno vi deve aiutare per forza. Vedete lo spunto di questo popolo che ha perso tutto e non sta tutti i giorni a piangere in televisione. In prima persona stanno cercando le soluzioni e ne stanno uscendo piano piano. Ecco, io penso che quando succedono le cose difficili è già un miracolo che qualcuno ci dà una mano. Perché capita da noi per destino, però non possiamo immaginare che noi dobbiamo essere protetti, superprotetti da che cosa. Dobbiamo farci avanti noi in prima persona le mie situazioni locali e finirlo una volta per tutte di dare la colpa sempre allo Stato su quelle che sono le vicende, a mio parere, che riguardano calamità naturali. Perché le cose sono molto lunghe, riguardano sicuramente scarse amministrazioni, troppa, come si dice, speculazione, persone che hanno comunque avuto diritti di costruire dove non dovevano costruire. Adesso la natura si sta prendendo tutto quello che è stato praticamente rovinato. Quindi le responsabilità sono di tutti e di tantissime persone, anche delle amministrazioni locali, anche delle persone che hanno accettato comunemente questo diritto che non gli era dovuto. Adesso ve la prendete con chi? Si dice, chi è causa del proprio destino, pianca se stesso, mi pare. Perché bene o male troppo spesso vogliamo dagli altri quello che gli altri in qualche modo ci possono dare, ma che è un certo punto. Alla prossima occasione.